Buongiorno ragazzi, in questo video parliamo della retta in geometria tridimensionale e in particolare andiamo ad applicare il linguaggio vettoriale. Iniziamo risolvendo questo esercizio. Dati punti A di coordinate 2, meno 1, 1 e B, 6, 1, meno 3, andiamo a determinare la retta R passante per i punti A e B e la retta S, parallela a R, passante per C, di coordinate meno 1, 0, 5. Cerchiamo quindi di visualizzare questi punti e la retta sul grafico cartesiano. Vedete quindi i due punti con le rispettive coordinate nello spazio tridimensionale. La retta che vogliamo trovare avrà una direzione che va da A verso B e quindi andiamo a considerare il vettore direzione V definito come B meno A, punto di arrivo meno punto iniziale. Questa direzione V sarà quella della retta R che stiamo cercando e che vedete visualizzata qui in viola. Cerchiamo quindi di descrivere la retta R passante per i punti A e B. Come detto, prima di tutto andiamo a determinare la direzione V ritrovando B meno A. Quindi, vedete, prendo le coordinate di B, 6, 1, meno 3, meno le coordinate di A, 2, meno 1, 1. Operando coordinata per coordinata trovo 4, 2, meno 4. E questa sarà la direzione della retta. Quindi, descriviamo la retta come punto di partenza A più T volte la direzione V. Quindi, in coordinate 2, meno 1, 1 più T volte 4, 2, meno 4. Chiameremo questa la forma vettoriale della retta. In maniera simile possiamo introdurre la forma parametrica in cui descriviamo R come, vedete, x uguale a 2 più 4T, y uguale a meno 1 più 2T e z uguale a 1 meno 4T. In cui, vedete, ho preso le coordinate del punto di partenza 2, meno 1, 1, riportandole ciascuna sulla sua giusta coordinata, e stessa cosa ho fatto poi con il T volte direzione V, 4T, 2T e meno 4T. In generale, possiamo dire che la retta nella geometria tridimensionale descritta in forma vettoriale, in cui P0 è il punto di passaggio con coordinate x con 0, y 0, z 0, e V è la direzione con coordinate x con v, y con v, z v, è descritta in forma vettoriale come P0 più TV e in forma parametrica come x uguale a x con 0 più T x con v, y uguale a y 0 più T y v, e z è z 0 più T z v. Possiamo quindi ora andare a concludere l'esercizio che avevamo iniziato. Infatti, dobbiamo ancora calcolare e determinare la retta S parallela alla retta R passante per il punto C. C. Cerchiamo di visualizzarlo graficamente. Quindi vediamo, qui ritroviamo il punto C con le sue coordinate. La retta parallela a R passante per C sarà quella che parte da C con una direzione V, quindi con la stessa direzione della retta R. Ritroviamo quindi questa retta che adesso stiamo rappresentando in rosa e vedete che è esattamente parallela alla retta R, cioè non si interseca mai con essa e inoltre è complanare, cioè le due rette giacciono sullo stesso piano. Concludiamo quindi l'esercizio. Vedete, considero il punto C e la direzione V, con cui vogliamo descrivere la retta S. Passante per il punto C. Scriviamo quindi C più Tv in coordinate meno 1, 0, 5 più T volte 4, 2, meno 4. Scrivendo S in forma parametrica avremo x uguale a meno 1 più 4T, y uguale a 2T e z uguale a 5 meno 4T, in cui ho chiaramente riportato le coordinate di C e di Tv nella forma parametrica. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a capire il corretto modo di descrivere in forma vettoriale una retta e la sua parallela. Continuate a seguire i video di questo canale e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!